Quattro paia di lanzori che abbiamo già cositi, ha due prazze e mi pare che siamo anche a posto figlia mia e tanto già siamo due giovedì cosendone il corredo tuo di sposa, oi 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 Senti un po', è il vestito di tua di sposa in castello, quant'è che lo portano a proposito? Il vestito da sposa mamma me lo consegneranno la settimana prossima E la via e la mobilia Mi hanno promesso che i mobili li consegneranno prima di far agosto La vai, la vai, la vai, e che cosa state aspettandone? Ma perché dovete aspettare a Santa Vitale a risposare? Non vi potete risposare per l'assunta al 15 di agosto? E del resto c'è tutto pronto Per finire la casa mamma ci mancano ancora porte e finestre Allora, dov'è la mia? Ma che cosa mi stai gettando a pari e dispari? Ma lo sai che i soldi per le porte e le finestre ve le posso dare io? La data del matrimonio è stata fissata Ottobre per la festa di Santa Vitale E a me va bene così Ma cosa mi stai gettando a pari e dispari, figlia mia? Ma 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 E se non mi sbaglio poi, il tuo fidanzato Antiogo Se non mi sbaglio, stai lì per arrivare A che ora ne arriva la corriera di Cagliari? Mi pare che arrivi alle 4-20 mamma Spanto che Antiogo non sia ancora proviato Ma 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 quella stontonata di Agnesa Gli avrà scritto delle chiavi? Sono qui a casa nostra? E che Agnesa doveva partire a Roma con un viaggio di premio? Ma certo mamma, la lettera l'ho scritta io con Agnesa E io ho provveduto anche ad indicarla Bisogna vedere che l'ha ricevuta, la lettera Stanno sempre scioperando quei dimoni delle poste Oi 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 E poi bisogna vedere Ma cosa avranno da scioperare questi dimoni delle poste Con tutti i soldi che coverano? Oi 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 oi, figlia mia, tocca Vai e incarati delle volte non sia di ritardo alla corriera Vai!